E' morto un famosissimo youtuber da 11 milioni di iscritti. Si faceva chiamare qua su YouTube Tecnoblade. Non ce l'ha affatto, non sarà ancora un tumore, lo ha portato via giovanissimo a 23 anni di età. Sono Tecnoblade, ciao a tutti, così si presentava in un video che appunto è diventato un po' virale ovviamente in quanto aveva 11 milioni di iscritti dove dice se state guardando questo video significa che non ci sono più parole tristiche che suonano come una sorta di profezia che poi però si sono rivelate fortunatamente bene. Si spegne a 23 anni di età, un giovanissimo ragazzo, un'influenza che scoprì nel 2021 ad agosto era appena in estate di avere un tumore, si recò in ospedale contro gli utili, dolori a braccio o sarcoma, non ha, diciamo così, nascosto la patologia. Di cui soffriva, ma purtroppo ha detto il tumore su di lui. Alex così si chiamava, o si faceva chiamare, ma in realtà sul tubo appariva semplicemente come Tecnoblade. Purtroppo non ce l'ha fatta, aveva scelto di comune accordo, forse anche per la famiglia, di condividere, di far sapere a tutti le informazioni principali a proposito della sua mattina, senza scendere però troppo in quelli che sono i dettagli. Insomma, una persona giovane, simpatica, socievole, un ragazzo buono, era questo Tecnoblade, che purtroppo non ce l'ho più. Che tu possa riposare in pace a mancare il Tecnoblade.